Di fianco a Mesto parliamo di Tamara Malleo. Buongiorno, sempre una grandissima accoglienza, grazie Fabio. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Good Morning Milano torna in questa settimana meravigliosa e torno purtroppo anch'io. No, purtroppo, anzi invece non vedevamo l'ora che fosse giovedì per appunto averti qui con noi tradizione di Good Morning, il primo giovedì e l'ultimo giovedì da stagione, averti qui in studio con noi. Poi magari durante la stagione, magari ci riusciamo. Facciamo come le feste comandate. Diciamo che la sveglia all'alba è molto difficile, non che io mi svegli, soprattutto se poi devi prepararti tutto quello che ci dici tutti i giovedì e ci dai questi grandissimi consigli su come far diventare appunto come dici tu il teatro un'abitudine, giusto? Esatto, ci proviamo, ci proviamo. Diciamo che adesso ancora i teatri si stanno risvegliando piano piano. E infatti, mi chiedo questo, allora. Perché le stagioni diciamo iniziano a metà ottobre. Ah, ecco, ok, verso metà ottobre. Però... D'estate in realtà si è andate da fare tantissimo, però. Tantissimo, ci sono stati tantissimi festival, tantissimi eventi, tantissime situazioni in cui il teatro si è inserito anche all'interno di contesti non prettamente teatrali e questo è un bene perché anche chi non frequenta solitamente il teatro può entrare in contatto con il teatro e poi, chissà, può entrare in contatto con una stagione teatrale. Quindi è sempre... Milano, devo dire ti che è molto dinamica in questo. Diciamo che settembre è un lungo lunedì. Settembre? Bello, bello. Però ti devo dire... Ci sono ancora i teatri chiusi a lunedì oppure ormai anche i lunedì sono aperti? No, tendenzialmente sono chiusi, ma il lunedì puoi trovare degli spettacoli teatrali in luoghi non prettamente teatrali, quindi magari in dei locali eccetera, quindi si può trovare comunque il teatro se si vuole, si cerca, si trova dovunque e comunque. La scoperta di quest'estate per Tavara Malia cosa è stata? Allora, devo dire che sono stati due festival, in realtà un festival che io frequento sempre e che amo molto, che è il Kilowatt Festival che si svolge a metà luglio a Sansepolcro, che è un paese tra la Toscana e l'Umbria ed è il paese, la patria di Piero della Francesca ed è un festival big. Piero della Francesca, quelli come dicono? Ah, quello della via. Anche quello della via. Prima della via facevo qualcos'altro, però... Però è un festival molto bello, di teatro nelle sue varie forme, quindi danza, teatro di prosa, performance site specific, insomma... Scusa? Scusa? È entrata un'interferenza di CiaGPT o qualcosa del genere, cos'è che hai detto? Site specific. Ah ok, allora visto che siamo sulla BBC puoi spiegarci bene... Certo. What do you mean? Questi spettacoli che sono legati al territorio, quindi vengono fatti proprio specificatamente per quel territorio e che possono essere replicati in altri territori e uno di questi poi te ne parlerò più tardi perché si svolgerà anche uno spettacolo del genere qua a Milano la prossima settimana. Ah, quindi vedi, 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 è interessante. E quindi il festival di... appunto il Kilowatt Festival io lo consiglio sempre. Sansepolcro? Sansepolcro. Fermata della metro? E quella, diciamo che è una fermata del treno a Rezzo e poi prendi un autobus. Se no vai in macchina come faccio io e quindi sono quattro ore e mezza. Che posti poi, cioè immagino. Bellissimi, bellissime. Peraltro a Pieve Santo Stefano c'è un museo dei ricordi. Cioè è un museo dove sono state raccolte per tantissimo tempo memorie del territorio, quindi diari, appunti, proprio per raccogliere i pensieri delle persone del territorio. Ah, ma mi stai parlando del piccolo museo del diario? Sì. Ah, e lo conosciamo bene, lo conosciamo bene. L'universetti, ma che grazie di umani, ha avuto appunto Giulia Barbieri, scusate che appunto collabora con il piccolo museo del diario. Sì, no, beh, è stupendo. Sei stata? Com'è, com'è, com'è? È molto affascinante perché a volte non ti fermi a pensare che anche dei piccoli dettagli all'interno delle nostre vite possono essere in realtà dei grandi ricordi, no? Dei grandi momenti di piccola vita in una grande storia. Perché se non mi ricordo male sono diari di gente comune. Cioè non è che trovi il diario di Garibaldi. Cioè chi sa quanti nascitti perché comunque si trovano tra parentesi. Però ricordiamoci che le storie personali, le nostre piccole storie personali, poi fanno la grande storia. Perché la grande storia è fatta dalle piccole storie personali. C'era qualcuno che diceva la storia siamo noi. Diceva, no? Quindi è così, va bene. Allora andiamo con un po' di musica e poi ci racconti appunto qualche cosa invece possiamo aspettarci nelle prossime settimane e anche in vista appunto della nuova stagione teatrale che dicevi inizierà intorno a metà ottobre. Più o meno lì, no? E' come l'anno accademico-universitario. Non soltanto inaugura verso quei giorni. Va bene. Hai girato, mi dicevi appunto, che siamo a Tessan Sepolcro, l'altro festival dove era giusto così per... Chiusi. Chiusi, ok. Che è dalle parti di... Toscana. Sempre Toscana. Sempre da quelle parti di... I posti sono quelli belli. E quindi insomma sei andata un po' in giro per la nostra penisola. Mi serviva questo aggancio per la prossima canzone appunto. Perché sei andata un po' nord, un po' sud, un po' ovest e un po' est. Nord-Sud-Ovest-Est, gli 8-8-3, che stavamo parlando fuori onda, insomma, recchiudono e... Cioè uniscono qualsiasi generazione ormai, no? Esatto, generazioni molto molto diverse. Perché la nostra, quella di Gineva che è in regia anno 2002, quindi insomma, che ci ha detto da piccola avevo l'iPod, ascoltavamo, noi stavamo parlando da piccola avevamo il mangiadischi. Esatto. Quello arancione. C'hai anche tu con l'arancione, quello verde, quello lì infatti con 45 anni. Mi ha fatto giusto in tempo, perché in realtà, vabbè, sì, era proprio il limite. È arrivata la cassetta dopo. Però, capito, se diciamo a loro al 2002 che cos'è un musicassetta... Il musicassetta è finito. Sì, sì, la musicassetta. Trovate un paio in giro in redazione, non so come ascoltarle, perché non ho più... Bravo. Non ho più un buco dove metterle. Non so, vabbè, comunque. Allora, nel tuo appunto girare per il nostro stivale Visto Festival, poi sei tornata qui nella nostra... Sono tornata, sono tornata. ...ridente Milano, che cosa ci... Allora, guarda, in realtà non l'avevo messo in elenco, però devo dirti che secondo me per, diciamo, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, potrebbe essere molto interessante. Slash Festival. È un festival che parte domani, il 13 fino al 22 di settembre, realizzato da Artevox Teatro, che è un'associazione guidata da Marta Galli e Anna Maini, ed è un'associazione che si occupa moltissimo di teatro legato a tematiche sociali. In questo festival, questo festival secondo me è molto interessante, perché cerca di creare veramente una forma di inclusività. Molti spettacoli sono per un pubblico che coinvolge anche i povedenti, sordi, perché ci sono del linguaggio dell'IS in moltissimi spettacoli, quindi permette un'accessibilità immediata agli spettacoli, permettendo a tutti e a tutte di seguirlo contemporaneamente, lo spettacolo, quindi non creare degli spettacoli apposta, ma di creare un pubblico etereogeneo e quindi veramente inclusivo. E pensa che addirittura, adesso non mi ricordo il giorno, però c'è un aperitivo con un trio jazz che suona e che può essere ascoltato anche da persone non udenti, perché hanno degli strumenti con delle vibrazioni che permettono alle persone non udenti di poter accedere all'ascolto di questo concerto. Poi ci sono appunto alcuni spettacoli legati alla lingualis, che quindi viene parallelamente sviluppata attraverso, durante lo spettacolo e c'è anche... LIS che finalmente è stata riconosciuta anche dal governo italiano dopo anni che insomma si provava a fare tra tutto, grazie in realtà all'ex direttrice della Rai che aveva, se non ricordo male, una figlia, un figlio appunto non udente e quindi ha cercato di spingere, spingere, tant'è che ha avuto due edizioni di Sanremo in LIS, insomma, finalmente la LIS... che è qualcosa allo spettacolo, anzi permette a tutti di seguirlo, a tutti e a tutte, di seguirlo contemporaneamente, quindi non avere una specificità, ma di essere tutti e tutte spettatrici e spettatori dell'evento. Nello stesso tempo, dovete pensare che quando si parla di LIS e tutti non ci scandalizziamo, ha un'opera che è in tedesco e ha i sottotitoli in italiano. Esatto. Quindi la LIS è nient'altro che un'altra lingua, perché non è nient'altro che un'altra lingua e quindi è come fosse sottotitolata LIS, diciamo. Esatto. E non dovrebbe essere qualcosa di cui si occupa solo qualcuno, dovrebbe essere interesse di tutti noi. Quindi questo festival, abbiamo parlato con Marta Galli in queste settimane, si è molto spesa affinché gli artisti e le artiste che partecipano a questo festival potessero essere coinvolte proprio in questo nuovo modo di connettersi all'arte. Una delle artiste che partecipano al festival, Marta Cuscuna, che è un'artista molto conosciuta, Cuscuna, ha voluto che il suo spettacolo potesse essere appunto, si potessero usufruire del suo spettacolo tutti e tutte, anche con appunto disabilità e quindi questo permette al festival di essere davvero inclusivo. Quindi la parola inclusivo in questo caso è reale, concreta e declinata negli spettacoli. Peraltro questo festival si svolge nella zona di Baggio e trovate tutte le informazioni sul sito di Artevox Teatro. Artevox. Artevox Teatro, sì. Alcuni spettacoli sono gratuiti, altri sono a pagamento, ma con un prezzo molto accessibile. Quindi proprio per permettere un'accessibilità anche economica a tutti, perché dobbiamo ricordare anche questo, il teatro si dovrebbe occupare anche di una fruizione che possa permettere a tutti e a tutti di accedere in qualche modo, di avere la possibilità. E c'è anche un laboratorio realizzato con i ragazzi dell'Istituto Rose Luxemburg. Rose Luxemburg, sì. Esatto. Che hanno sviluppato proprio uno spettacolo su temi legati al loro modo di vedere la vita, su temi molto delicati, che possono essere il suicidio, che può essere il bullismo, che può essere tematiche che possono essere sensibili. Quindi devo dirti che secondo me può essere una buona opportunità. Ricordiamo bene come si chiama il festival? Slash Festival. Slash Festival, ok? Trovate tutte le indicazioni, poi comunque su internet. Le date più o meno? Parte domani, fino al 22 di settembre. Perfetto, perfetto. E questo è il primo, è il primo consiglio di Tamara per oggi, ma adesso andiamo con un po' di musica, poi torniamo perché io vedo di quaderni scritti, quindi immagini ci sia tanta altra roba, giusto? Sì. Bene, allora andiamo con un po' di musica, avanti così, 8.25, e lo dì con Black Nirvana. Voilà, Gali, voilà, 8.31 minuti, a proposito, 8.30, poco fa, mentre eravamo fuori onda, è arrivata la telefonata della Protezione Civile, l'allerta anche via email, Protezione Civile del Comune di Milano, informa che il torrente Seveso ha raggiunto la soglia di attenzione, ok? Solida attenzione vuol dire state attenti, non è che sta già riuscendo, non allarmiamoci più di quello che bisogna, però, attività di prevenzione, dice appunto, tenersi aggiornati sull'evoluzione della condizione meteo, tenere comportamenti prudenti durante eventuali attività all'aperto, proteggere i locali che si trovano ai piani strada, e mettere a sicuro l'automobile. La protezione, nel caso ulteriore, poi semmai si passa allo stato di criticità, ma quello, al momento, per fortuna non c'è attenzione, quindi solida attenzione raggiunta per il torrente Seveso. Torniamo invece a parlare di teatro, cos'altro ci dobbiamo aspettare da questa stagione in arrivo? Allora, ti dico subito che un posto di cui abbiamo parlato anche nella scorsa stagione, e che mi piace sempre molto, e che è un posto accogliente, che si occupa, cioè che prepara sempre una stagione diciamo fuori teatro, in qualche modo, e a Precu. È un locale che si trova in Porta Romana, in Via della Braida, ed è, accanto c'è la scatola Lilla, che è una libreria bellissima, di Cristina Di Cagno, che vi invito sempre ad andare a trovare, perché è una consiglia dei libri bellissimi, e ci sono moltissimi incontri di presentazioni di libri, dove si può approfondire molti temi. e a Precu ha una stagione di teatro di cui si occupa Laura Tassi, che è una bravissima, diciamo così, raccoglie, è molto brava perché raccoglie molti spettacoli, e poi li propone all'interno appunto dello spazio di a Precu. Si apre la stagione del teatro ad a Precu nel proscenio con la settimana prossima, venerdì 20, con una coppia eccezionale, io dico, perché quando li ho conosciuti mi sono innamorata immediatamente del loro lavoro, Beth Davis, Elisabetta Mazzullo e Davide Lorino portano in giro un modo di fare teatro, secondo me, molto bello, perché mettono insieme musica, Davide Lorino crea della musica originale, Elisabetta Mazzullo scrive insieme a Davide i testi, molti dei loro lavori, per esempio, sono legati ai testi, alle poesie di Shakespeare che vengono tradotte e messe in musica, per esempio, invece in questo caso, venerdì 20, vi aspettano da Precu con un testo che prende ispirazione da, ho sposato un deficiente di Carla De Signoris, quindi un testo molto ironico e l'ironia di Carla De Signori si viene in qualche modo filtrata dall'ironia del duo Beth Davis e in questo caso, appunto, in maniera divertente, prendono, si racconta la vita coniugale di una coppia e ironicamente si prende in giro un po' i difetti dell'uno e dell'altro e c'è sempre la musica che fa da cornice in qualche modo, anzi da supporto, secondo me, e secondo me sono spettacoli sempre molto teneri, c'è una grande tenerezza, c'è una grande malinconia che però, io intendo malinconia come un sentimento molto profondo, molto bello che ti avvolge e ti guida in questo viaggio. Quindi, il spettacolo è Ho sposato un deficiente, si chiama? Ho sposato un deficiente. Carla dei Signori si ha scritto un libro. Sai come sarà contento Crozza di questa cosa? Beh, Crozza è molto iconico. Spero l'abbia scritto prima di sposarlo. No, no, l'ha scritto dopo, ma... Proprio perché l'ha sposato? Ma con ironia, con ironia di Carla dei Signori che scrive molto bene. Messo in scena, mi dicevi, dal duo... Beth Davis. Lo trovate anche su Instagram e vi consiglio di seguirli perché fanno anche uno spettacolo bellissimo che si chiama Mille metri di vuoto su Antonia Pozzi, sulle poesie di Antonia Pozzi legati alla montagna e anche là loro con la poesia hanno un rapporto molto stretto, riescono a creare un collegamento tra la poesia, il teatro e la musica. Ah, hai visto. Bellissimo. Fanno un lavoro meraviglioso. Tutto questo? Dicevamo dove? Aprecu. Aprecu, in via della Braida, Porta Romana. Porta Romana, ok. Dov'alto possiamo andare? Possiamo andare. Sì, sì, sì. Allora, possiamo andare... Ormai siamo lì in Porta Romana. Dopo Porta Romana dove andiamo? Dopo Porta Romana andiamo all'Elfo Puccini che è un luogo ormai che conosciamo in Corso Buenos Aires fermata dalla metropolitana rossa o Lima o Porta Venezia. Sì, da Porta Romana se cosa fai? Prendi il 9 vai verso... Scendi Porta Venezia e ti fai il pezzettino a piedi. Ma sono 5 minuti, davvero. È anche bello, è una bella zona di Milano. Esatto. Dove la prossima settimana ci sarà Istrio Festival. Istrio Festival. Istrio Festival prende origine, diciamo così, dalla rivista Istrio. Claudia Cannella che è la fondatrice, diciamo che è la direttrice della rivista Istrio da ormai più di 20 anni che con le sue collaboratrici ha voluto fondare un festival nato qualche anno fa che adesso ormai è un rito che si ripete all'inizio di settembre appunto quasi in apertura della stagione teatrale. Istrio come rivista che trovate sul sito di Istrio e ve la consiglio perché ci sono degli approfondimenti dei collaboratori delle collaboratrici sui vari spettacoli teatrali che si svolgono in tutta Italia che sono messi in scena in tutta Italia e il Festival Istrio è come, diciamo, punta l'attenzione su testi di drammaturgia contemporanea, originale Under 35 quindi con autori e autrici attori e attrici diciamo così tendenzialmente Under 25 come compagnia di riferimento e sono due spettacoli parte il 17 di settembre fino al 22 ci sono ogni giorno due spettacoli e una lettura scenica significa un testo che ancora non è stato messo in scena ma che si legge in scena attraverso una lettura di attori quindi professionisti che poi vedrà verrà messo in scena nella corso della stagione teatrale insomma in una prima fase e poi la lettura scenica credo sia proprio una cosa che si fa quando appunto arriva un testo lo si prova prima ancora di provarlo lo si legge tra gli attori che dovrebbero in teoria poi fare qui viene fatto in pubblico assolutamente bellissimo e in collaborazione con Situazione Drammatica che è un'associazione voluta e fondata da Tindaro Granata che è un attore incredibile che sappiamo che ti piace tanto perché lo nomi tantissimo ogni puntata praticamente è vero Tindaro Granata in effetti Tindaro in effetti cerca di capire è nei miei pensieri cerca di capire il sottoscritto cioè non io il sotto cioè tra le righe dai Tindaro no no è un grandissimo artista è un mio grande amico ed è soprattutto un'anima molto sensibile ha fondato appunto Situazione Drammatica che permette ai testi di in genere di giovani autrici autori ma comunque testi non editi ancora di poter trovare una casa e quindi di poter essere letti in pubblico perché un testo letto in pubblico in qualche modo ha il primo contatto con il pubblico quindi comincia a prendere forma ed è una grandissima occasione che lui dà alle autrici e agli autori di questi testi in questo caso diciamo così il lavoro è ancora più diciamo così è un passo più avanti perché appunto questi testi saranno tra breve messi in scena quindi sono già molto sviluppati io ho visto anche letture di testi appena nati e devo dire che comunque è sempre una grande emozione perché Situazione Drammatica organizza anche delle serate in cui tu hai il copione in mano quindi puoi leggere puoi seguire la lettura attraverso il testo scritto e gli attori e le attrici intanto leggono questo testo in maniera interpretata una lettura interpretata però devo dirti che è un'emozione comunque molto forte detto questo il festival si chiuderà domenica 22 con la premiazione perché Istrio ha appunto nel corso del suo del suo percorso come rivista ci sono dei premi che ogni anno vengono dati a delle figure particolarmente rilevanti del teatro in molti ambiti quest'anno i premi verranno consegnati domenica 22 la serata verrà presentata da Valeria Perdonò e Alessandro Lussiana con chiaramente la guida di Claudia Cannella che è la direttrice e nella serata finale verrà anche messo in scena il testo vincitore di scritture di scena che è un altro diciamo così filone all'interno sempre di Istrio e legato al festival Istrio quest'anno vinto da Mattio Pastore che è un attore che adesso è anche autore molto molto bravo molto sensibile e il cui testo appunto verrà messo in scena domenica 22 quindi tutto questo c'è la possibilità di assistere sempre con spettacoli di un'accessibilità economica molto democratica diciamo così democratica e quindi trovate tutte le informazioni sul sito di Istrio dal 17 al 22 di settembre ok e questo è l'altra abitudine che dobbiamo uscire a prima di andare a cercarci grazie Tamara delle belle situazioni in cui immergerci in questo teatro che insomma a Milano sappiamo essere importante facciamolo sempre di più Arceo Tupego Michel Telò Michel Telò qui un po' di Brasile un po' di Brasile è arrivato in studio dopo che è arrivata la nostra non sei brasiliana questa volta mi spiace non ho proprio i colori sono riuscito a fare ma non è vero ci sono sì sì va di moda il biondo il biondo anche da quelle parti comunque non parliamo di samba ma parliamo di teatro e parliamo proprio di uno spettacolo un spettacolo site specificity adesso mi hai fatto ingarbugliare site specificity cioè uno spettacolo che viene fatto in molti paesi europei e italiani in tante città diverse partendo dallo stesso cioè l'idea è sempre la stessa però si adatta al luogo in cui si ne hai fatto in dialetto no ok non è quello devo dirti che si parla poco in questo spettacolo allora che librificio in qualche modo è più facile nel senso che è una lingua universale ok però lo devi adattare al territorio però lo devi fammi capire perché no è molto difficile lo andrò a vedere martedì ma devo dirti che l'attrice che si occupa di questo che firma questo spettacolo è un'attrice che un'autrice attrice che a me piace moltissimo che si chiama Gemma Carbone che vive tra Milano e Gothenburg ok oltre che in giro per l'Europa perché le lavora molti progetti europei questo è un testo da cui è tratto questo spettacolo che si chiama Muoio come un paese è tratto da un testo di un autore greco Dimitriadis o Dimitriadis questo l'accento non sono sicura se avete la possibilità di vederlo martedì 17 e mercoledì 18 martedì 17 verrà fatto all'ex Paolo Pini ok ok in via Ippocrate quindi zona Affori mentre mercoledì si svolgerà in via Le Padova ok quindi altra zona di Milano e quindi due zone di Milano nella stessa città in due zone diverse e quindi viene localizzato anche spostato di zona poi no lì no beh in qualche modo ci sono delle sfumature diverse perché lei è molto in ascolto è uno spettacolo itinerante in cuffia ah ok ok dove si mettono insieme moltissimi elementi del teatro dell'architettura ok quindi in via Le Padova in via Le Padova da qualche parte sulla via sì è un percorso che viene fatto e dove appunto lei Gemma Carbone si cala nelle vesti dell'angelo della storia e ci porta in un percorso in cui noi dobbiamo scoprire perché un paese sta morendo e di conseguenza la morte del paese è legato alla morte della società quindi c'è una è tutto molto legato a delle teorie no ad un percorso diciamo così legato tutto a dei ragionamenti quindi è molto mentale questo viaggio però sicuramente tanto più tu sei predisposto a questo viaggio tanto tu puoi cogliere in quello che ti circonda la morte di un paese e quindi secondo me è un percorso molto particolare però il teatro è questo il teatro ti deve portare a superare i tuoi limiti a superare quelle barriere che tu ti sei posto ma perché come tutti noi ci poniamo delle barriere e quindi superarle e accorgerci di cose che di solito non ci accorgiamo ma comunque non vengono messe in evidenza insomma o mai ce le accorgiamo e non le guardiamo non le ascoltiamo trovate tutte le informazioni sul sito di Olinda ecco bene interessante com'è il nome dello spettacolo? si chiama muoio come un paese muoio come un paese è venuto in mente il famoso il paese che muore una civita di bagnoreggio viene chiamato anche il paese che muore ad esempio si è venuto in mente questa cosa tornando a Toscana oggi è tanta Toscana oggi è tanta Toscana tra di noi però vabbè è molto interessante mi è interessanti questa cosa davvero che anche a Milano in realtà si a questo punto per come me l'ha raccontato nonostante venga fatto lo stesso spettacolo in due zone di Milano saranno due spettacoli non ti dico completamente diversi ma vanno delle no certo perché comunque la drammaturgia è quella però se il contesto intorno è diverso non è solo scenografia come dire ecco è protagonista sì l'angelo della storia entra dentro il territorio e ti porta a fare delle riflessioni legate comunque a quello che ti circonda è per questo che lo spettatore è una spettatura la spettatrice è un pubblico molto attivo cioè deve essere capace di guardarsi intorno e di seguire la storia che sta tracciando l'angelo della storia bene allora andiamo con l'ultima canzone poi torniamo qui con i saluti e poi con un consiglio veloce su come far diventare questo teatro questa benedetta abitudine di cui parliamo sempre però perché dobbiamo provarci non abbiamo una soluzione no no secondo me dai adesso hai un Ed Sheeran per pensarci ok va bene appunto adesso è il momento di Ed Sheeran con Shivers alle 8.49 qui su Crystal Radio 331-78-535-55 grazie dei Whatsapp quei pochi che stiamo riuscendo a vedere sapete ma è un problema lo aggiusto lo aggiusto sicuramente Ed Sheeran quasi in chiusura di trasmissione non prima appunto Tamara qui con Tamara Malleo che ci sta raccontando un po' del teatro e della stagione in arrivo in queste settimane noi diciamo sempre che diventiamo un'abitudine questo teatro dai come possiamo farlo guarda che esercizi dobbiamo fare è difficile sei Tamara sei la nostra personal trainer del teatro bello questo mi piace mi piace molto allora guarda io mentre me l'hai detto stavo pensando ho già messo i pantaloncini alla cosa sono pronto vai no stavo pensando che un modo magari per poter cominciare a seguire il teatro è cominciare a seguire degli artisti o delle artiste quindi seguire le loro pagina Instagram vedere i loro video capire un po' che tipo di linguaggio portano che tipo di storie portano provare ad andare a vedere uno spettacolo e poi seguire magari quell'artista e poi da quel momento in poi entrare anche in contatto con un po' quel mondo ok e allora adesso la domanda è spontanea dimmi un artista se vuoi che non sia Tindaro che abbiamo capito che è bravissimo e ci piace un saluto a Tindaro esatto per esempio io ti dico Alice Redini allora ti dico due nomi Alice Redini e Loris Fabiani eh Loris Fabiani io so che che ho riportato 4 dico già eh Loris Fabiani è un grande 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 artista da tanti anni lui lavora sulla parola sul personaggio di Lunanzio su tutto un percorso di narrazione io credo che sia veramente un lavoro veramente prezioso molto approfondito e il risultato è anche una grande empatia con il pubblico quindi secondo me Loris Fabiani va seguito ma Loris se ci senti batti un colpo esatto batti un coup de teatro esatto e Loris Fabiani lavora anche con Alice Redini Alice e Loris li troverete al teatro Elfo Puccini proprio dal 18 di ottobre insieme sono strepitosi sono veramente incredibili ma Alice Redini Alice Redini secondo me va seguita perché è un'attrice molto anche lei lavora moltissimo sulla parola sul sul linguaggio e sul pensiero e fa soprattutto in questo periodo fa molta io la seguo tanti anni come attrice scritturata ma in questo ultimo periodo fa stand up è una stand up molto ironica gioca molto sugli stereotipi femminili e su il linguaggio al contrario in qualche modo in questi ultimi giorni ha pubblicato dei video che sono divertentissimi io che sono una spettatrice triste ho riso molto spettatrice triste che brutta immagine che non è così no perché faccio molta fatica a ridere devo dire la verità allora sono contenta quando sei qua sei sempre sorridente sorrido nella vita ma quando vado a vedere uno spettacolo faccio fatica a ridere perché non mi fanno ridere molte cose rido difficilmente con pochi artisti se fate ridere o siete arrivati loris fabbiani mi fa molto ridere bene io consiglio anche Claudia Marsicano se la conoscete c'è uno spettacolo in giro con questo spettacolo rosa assolutamente è bravissima è bravissima volevo consigliarvelo Claudia Marsicano abbiamo gli stessi gusti settimanalmente adesso mi impegno a consigliare due artisti un uomo e una donna da questo momento in poi così potete cominciare a seguirli e secondo me vedrete che troverete la vostra o il vostro artista preferito altro che influencer seguite un artista così bravo perfetto va bene andiamo con la sigla per non prima di aver salutato e ringraziato Tamara Malleo grazie grazie a tutti e a tutte e seguiteci da questo momento in poi con Good Morning in Milano tutte le mattine sempre qui tutte le mattine alle 7 alle 9 sigla grazie a tutti 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 Grazie.